E' bella a tutti ragazzi, qui a Bioscrapi vi parla Oggi siamo di nuovo su FIFA ragazzi Allora ragazzi, oggi farò una partita tranquillissima Forse anche due, a stagioni Ultimate Team ragazzi Allora, come potete vedere, boom, all'inizio Questa qua, a parte questa carta che secondo me non serve a un cazzo E' uscita questa, non so cosa sia, non so perché Comunque ragazzi, come potete vedere, ho cambiato squadra A me mi sembrava più una squadra degna Nel senso, era forte, ma non tanto E guardate che squadrone ragazzi Fenomenale Questo squadrone, soprattutto lui, lui e lui, diciamo Saranno il trio delle devastazioni Ah ragazzi, spero che l'audio si senta Perché ho dovuto cambiare Ho dovuto cambiare microfono E sto usando questo, il mio vecchio microfono Perché l'audio del Perché l'audio del Del Cristo, lì L'audio della webcam Mi dà un po' fastidio E non funziona E noi andiamo contro Faustin Ah ragazzi, è una partita proprio tranquillissima Quindi non è né Che ne so, cop Né niente E' una partita per Per parlare anche un po' Quindi E' il mio Quella specie di vlog giocando Che vi avevo parlato nello scorso video Allora ragazzi Volevo parlare un po' Di dove sono arrivato Di dove siamo arrivati Che uno può dire Vabbè Non ti montare la testa Sono pochi iscritti Per me no ragazzi Per me 40 iscritti sono tanti Sono amici Saranno anche Alcuni sicuramente saranno anche Stranieri Che piacciono il mio canale Oppure che Sì, che piacciono i miei video Che gli piace il mio canale E ragazzi Per me E' tanto Arrivare a 40 iscritti Perché in due mesi Certo Uno in due mesi Può fare anche 1000 iscritti Però io Con calma Vado con calma Vado senza Senza fretta Agli obiettivi più grandi E ragazzi Sono davvero contento E vi dico subito Che a 50 iscritti Quindi fra 10 iscritti Farò una specie di Speciale Se si può Se si può dire speciale Perché E' una Una cosa diversa Che ne ho già parlato Nei miei video Che voglio fare E ho deciso di farla Come speciale Sarà Una cosa bella Una cosa magari diversa Intanto facciamo il gol Vabbè ma Tanto la bravura Non è Una Scarpa Comunque ragazzi Faremo questa Questa cosa Che ora non vi dico E Sarà lo speciale Comunque parlando Cioè Dopo aver finito Di parlare Di Speciale 40 iscritti Ci sono 25 visualizzazioni E l'ho messo Due giorni fa Cioè Non che mi lamenti Però Mi sembra un po' strano Io ho 40 iscritti Come minimo Almeno Non dico Che ne so In un'ora Ma almeno In un giorno Penso 40 visualizzazioni Cioè Io vi incito A guardare I video Nel senso Io Spero Che voi Guardate i miei video Non perché io ve lo dica Ma perché Vi piacciono Perché io davvero Ci metto Tutto Me stesso A fare video Tutto me stesso A registrarli A volte I video Non mi si registrano Sono stati problemi Tipo All'altra sera Ho registrato Una cosa Epica Un video A 4 Eravamo io Mio cugino Manu Mio cugino Simone E mio fratello In una partita A 4 Che ragazzi Siamo spisciati Dalle risate Cioè Io con tutto contento Del mio risultato Che abbiamo riso Tutto il resto Ho dovuto Ho dovuto Bestegnare Come uno stronzo Africano Perché Mi si era Non mi aveva registrato La Intanto Non mi aveva registrato La La webcam E non aveva registrato Neanche l'audio Perché Anche se ho registrato L'audio Cioè Ma fu un culo Non lo metto Senza webcam Sarà una schifezza Però Faceva scassare da ridere Solo da quel che dicevamo Invece no E niente ragazzi E vedete Ci sono anche queste cose qua Questi problemi Ma va bene Non importa Cioè Ci sta Che qualche volta Succede un casino Mi chiede che cosa ha fatto Succede Dobbiamo fare di più Dobbiamo fare di più Dobbiamo dare di più Perché io Do il mille per mille Voi datemi una mano Rigore Datemi una mano ragazzi Dovete darmi una mano Ma non è che dovete Se volete ragazzi Datemi una mano Perché Così capisco Che i video vi piacciono E quindi posso andare avanti Così Se io non vedo Mi piace Se io non vedo Commenti Visualizzazioni Per carità Io i video li faccio Perché Io mi diverto Quindi a prescindere Li faccio Che ci siano Che ci siano Intanto un'altro cosa Che ci siano I mi piace o no Io li metto comunque E li diterò comunque E io sarò contento Comunque perché Faccio quello che voglio E non faccio quello che Non so Non faccio quello che Non lo so Non so come dirlo Comunque avete capito Faccio quello che voglio Non sto facendo così Giusto per farlo Quindi Che li mettiate O che non li mettiate A un certo punto Non importa Però Qualche mi piace Farebbe comodo Nel senso Farebbe comodo Piace Piace Vedere tanti mi piace È brutto da dire così Però piace Vedere tanti mi piace E io Spero davvero Di essere stato Ma neanche chiaro Spero di Aver Aver Averli fatto Afferrare il concetto Perché Poi magari uno può pensare Che io Pretendo Che voi Mettiate mi piace Ed è la cosa Più sbagliata Da pensare Perché assolutamente Io non pretendo niente Se a voi Il video è piaciuto Ve lo mettete Se non vi è piaciuto Ma potete anche mettere Non mi piace Cioè Non è quello il fatto E l'unica cosa È il supporto È dare una mano Che ne so Aiutare Me Cioè io sono contento Se vedete mi piace Ragazzi Penso che chiunque Sia contento A vedere Un bel mi piace O una bella visualizzazione Anche se ho un bel commento Con scritto Bel video Continua così A chiunque penso Piace Quindi Io giustamente Ve lo sto dicendo Perché Ultimamente Perché c'è stato un periodo Che boom Tipo mi piace A manetta A tutta andare I commenti Cioè Era Era Bello Mi penso una settimana fa O due settimane fa E poi Questa settimana Boh Letargo Più totale Poche visualizzazioni Cioè Non penso di fare video Atroci Oppure Che ne so Di fare video Con cui bestemmio Che Che Mi lamento di qualcosa Assolutamente no E questa non è neanche Una lamentera Perché magari qualcuno Può anche pensare Non è assolutamente Una lamentera Io sto solo dicendo Le cose che penso E non Non Penso Sia Sbagliato Di quel che si pensa No Cioè Un canale Fatto anche per questo Non ci sono solo video In cui io faccio qualcosa Ma ci sono video In cui Dico qualcosa Comunque Spero che mi state ascoltando Anche solo Anche se Non state solo guardando La partita Ma mi stiate anche solo Ascoltando E Niente ragazzi Poi Volevo parlare Anche delle Delle collaborazioni Con Manu Con Simo Adesso farò Questo speciale Non vedo l'ora Di fare lo speciale Che sarà Non lo dico Sarà un bel video Spero che Verrà bene Spero di registrarlo Perché Se non dovesse registrare Manco questo Cioè Sarebbe brutto E niente ragazzi Che ve posso dire Vi posso dire Che Ho la stessa Maglietta Di quando Ho giocato A minecraft Ma è un altro giorno Solo che Sta maglietta È come se fosse Non il simbolo Del mio canale Però Voglio mettere Una maglietta Sempre blu Perché Il mio coloro Preferito è blu E quindi Volevo Volevo Utilizzare Tipo Magliette così Bianche e blu Solo blu Come Maglietta del canale Quindi Mi vedrete addosso Quasi sempre Questa maglietta La lavo La lavo Non mi Non mi vesto Nel senso Non Non uso sempre La stessa maglietta Nel senso La lavo Poi me la rimetto L'asciugo E basta Cos'è normale Intanto Sta là Ci fa qualche numero Vediamo No Questo dovrebbe essere Rigore Appunto è Rigore Vedi ragazzi Stiamo asfaltando Questo Tezzo di crasto Anche se mi veniva Questo numero Chiedevo il video Basta ragazzi Ciao Invece no Faremo una cosa Molto Stronza Vediamo un po' Tic Bastardo L'ha intuito Bastardo Vabbè Non importa Siamo già 3 a 1 Non è quello Il problema Ecco Vi sto stupendo Del risultato Che sto facendo Pur parlando Con voi Pur pensando A cosa A cosa dire Pur pensando Agli argomenti Di cosa Di cosa Parlare Mi sta venendo bene La partita Dai non sto Non sto giocando Ma certo Non sto giocando Come sempre Però Non è mai Non è mai Ora ragazzi È crashato tipo Il mondo Sto iniziando a sudare È crashato tipo La webcam È morta E meno male Che me ne sono accorto Subito Immediatamente E ho stoppato Però mi sono preso Gol Perché Effettivamente Non avevo stoppato E mi sono preso Gol Quindi Niente di grave Di cosa Le posso fare Le posso parlare Di Una serie Che ci sarà Ragazzi La La Friendscraft Giustamente Non la vedete più Perché Stiamo aspettando Il computer Stiamo aspettando Il computer Di Zifo 1999 E finché Non arriva Perché avevamo Intenzione Di fare una serie Sera E una serie Seria Una serie Seria Quindi una serie Bella Fatta bene Con le mod Tutte quelle fighe Tutto E finché A lui non gli arriva Al computer Non faremo Il cazzo Perché Prima di tutto Ci dobbiamo coprire Un server Vogliamo comprarselo In tre E se lui non è al computer Come cazzo Ce lo facciamo Coprire in tre Non possiamo E quindi Niente Dobbiamo aspettare E lì Non dico che inizierà Una nuova serie Ma Più o meno Cioè Boh Non sappiamo Se richiamarla Di nuovo Friendscraft Oppure Dargli un nome diverso Che ne so Non lo so Poi Poi vedremo Volevo parlare con voi Volevo chiacchierare Un po' Da solo Ma Indirettamente E parlare con voi E niente Quindi ragazzi Spero che questo Vlog Games Abbiamo anche vinto La partita Vi sia piaciuto Se si lasciate Un pollice in su Ragazzi Un pollice in su Non ci vuole niente Lasciate Un pollice in su No eh Sparte di scherzi Ragazzi Davvero Spero che vi sia piaciuto Se si lasciate Un bel like qui sotto Un commento Se non siete ancora iscritti Iscrivete Ragazzi E Bella Ciao 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 Ciao